È considerato uno dei più grandi gruppi a livello mondiale che opera nell'industria cosmetica e ha le sue sedi qui nel cremasco, a Vaiano, Chieve e Crespiatica. Stiamo parlando della Cromavis, il gruppo a intenzione di espandersi nel futuro e unificare le tre sedi cremasche a Offanengo in un'area di 100.000 metri quadrati. Ci troviamo nella sede di Vaiano Cremasco della Cromavis in compagnia dell'amministratore delegato Fabrizio Buscaini. Partiamo proprio da una breve cronistoria di questo gruppo Cromavis. Cromavis parte con due società, una si chiamava Clavis e l'altra gama Croma che hanno fatto la storia della cosmetica in Italia partendo 50 anni fa. Si sono unite poi queste due realtà nel 2008 formando Cromavis. Quindi direi che c'è una base di storicità molto importante. Noi di cosa ci occupiamo? Facciamo cosmetica che offriamo ai nostri clienti che sono i grandi marchi che tutti conoscono e utilizzano abitualmente. È un laboratorio direi di ricerca e di innovazione. E avete in mente di allargarvi in un futuro. Ovviamente qua avete tre sedi e in un futuro pensate di unificarle in un unico stabilimento. Perché? Ma allora intanto per un discorso di comodità logistica come vi potete immaginare ma anche perché questi 185 milioni di fatto poi noi pensiamo di accrescerli ulteriormente. Insomma l'idea è di raddoppiare il fatturato nel 2020. Questo come lo facciamo? Con uno stabilimento nuovo perché questo ormai è vecchio, diventa sempre di più obsoleto e quindi è importante unire ma soprattutto ingrandire. Quindi tendiamo a raddoppiare anche la nostra capacità produttiva. Anche lo stabilimento sarà di 50.000 metri quadri. Tutto questo investimento però ci tengo a dire è possibile perché noi facciamo parte, noi siamo una SPA ma facciamo parte del gruppo Fareva, che è un gruppo francese con un unico proprietario al vertice e quindi tutta questa comunicazione è facilitata e soprattutto questi investimenti sono resi meno difficoltosi che se fossimo veramente una realtà self-standing.